Fratelli e nerazzurri, amici di Facebook e Instagram, buongiorno a tutti ragazzi, un saluto a tutti gli iscritti al canale e buon martedì, buon martedì ragazzi, martedì di Champions, martedì di Champions, ma a noi non interessa perché noi, e noi si gioca domani, si gioca domani, è una partita fondamentale, è una partita importantissima. Ci sono però un po' di argomentini, un po' di argomentini perché c'è Ziliacus, detto anche Spartacus, che è ancora in calza, intervista a Boa, tutto sport credo, non lo so, parla ovunque parla, parla sui social, parla dappertutto. Poi c'è la questione, e qui, qui guarda, proprio l'altro giorno volevo fare un video, no, perché vedevo tanti che parlavano, a proposito, scusate, a proposito, se mi stai ascoltando, tu che ieri ti si è creato un profilo fake, proprio giusto ieri, no, per commentare e dire, ma parli degli alluvioni, parli, io parlo di che cazzo voglio nel mio video, sfigato di merda che ti crei i profili fake con nome falso e cognome falso, senza faccia. Avete rotto il cazzo, avete rotto, tutta sta gente su youtube che non si fa vedere senza nome, senza cognome, avete rotto il cazzo. Quindi, se ti piace, segui, se no, non sei obbligato a commentare, a farti, tu pensa quanto tempo hai di farti un profilo fake perché magari eri già bannato per venire a rompere il cazzo. Vedete voi che gente che c'è, eh? Quindi, nome, cognome, faccia, ok, e poi parliamo, così come youtuber, nome, cognome, faccia, e poi parliamo. Eh, che cazzo, dopo un po' anche basta. Quindi, allora, dicevamo, a parte che è uscito un video a proposito dell'alluvione, hanno messo uno striscione in curva della Juve, bello, bello, di vicinanza, a sostegno delle zone colpite, soprattutto la Toscana, anche perché c'era Fiorentina, Fiorentina-Juve, no? Quindi, la Fiesola aveva detto che non sarebbe andata, e una parte della Fiesola è andata ad aiutare, poi vedi il pirla, perché poi ci sono sempre i pirla, no? Poi vedi il pirla che fa il gesto così, fa il gesto così, e quindi siccome sta girando sto video, poi vedete quanta cattiveria e quanta malignità, quanto schifo c'è. Sui social poi non ne parliamo proprio. Ripeto, vedo anche dei moderatori, uno dovrebbe moderare, non dovrebbe insultare tutti a prescindere. Quindi vedo tanta merda su YouTube, ovviamente moderatori senza nome, senza cognome e senza volto. Io ne ho uno di moderatore, se qualcuno sbaglia viene bannato, non è che gli risponde o gli caga il cazzo, o gli insulta la madre, ok? Quindi è pieno di merda YouTube, ma prima o poi sparirà sta merda. Quindi, lo striscione della curva a sud è bellissimo, però se poi, ieri sera, stanotte, che cazzo è successo sui Navigli? Se poi succedono queste cose ancora per... Ma guarda che non è solo per la sud, lo dico per la nord, a me qualsiasi azione di questo tipo non mi piacciono. Io lo vedo in modo diverso il calcio, ma totalmente diverso. Quindi, si predica bene e si razzola male. Perché anch'io mi sarei sentito di fare i complimenti alla sud per quel bellissimo striscione contro le guerre, ma se siamo i primi noi a fare le guerre per una cazzo di partita di calcio, tutto non ha senso. Tutto non ha senso. Quindi, e questo vale per tutte le curve. Io porto il bello delle curve. Che cos'è? Le coreografie. Ci si prende per il culo e ci si sfida. Prima sugli spalti e poi sul campo. Quella è una cosa fantastica. Oppure tantissime cose belle che fanno. Però poi ci sono ste puttanate qua. Per me sono puttanate queste qua. Eh, ma l'andata ci sono state... Non lo so, io non so che cazzo è successo l'andata. Ma è una cosa che mi fa cagare, ok? Quindi, c'è Milano, Milano il centro, adesso ne arriveranno 4.000. Milano è un casino adesso. Il centro, è andato mio padre stamattina, è tutto blindato. Sono in stazione centrale, poi dall'otto devono fare il corteo, quindi... Sono cose brutte per il calcio. Sono cose brutte per il calcio. Eh, beh, a me ste cose qua non piacciono. Che cazzo vi devo dire? Eh, eppure ci sono cresciuto questa roba qui. Io negli anni 80 ho visto di quelle cose a San Siro che voi non potete neanche immaginare. Chi c'era lo sa. Anni 80, primi anni 90. Eh, a me ste cose non piacciono, ok? Quindi, è bello lo striscione. Certo che è bello, ma se poi siamo noi i primi per una cazzo di partita o per due squadre che per l'amor di Dio che ci deve essere la rivalità ma fino a un certo punto questo mi sento di dire, cioè... Eh, quindi... Stasera vedremo cosa faranno loro. Io una cosa vorrei capire dai milanisti, però. Adesso ho sentito parlare che Ibra forse ritorna, Ibra. Ma Ibra cosa dovrebbe fare? Non so, da tutore a Pioli cosa dovrebbe fare Ibra? Che sento tutti galvanizzati. Ha parlato anche Forlana adesso. Ibra, sì. Sì, ho capito che due anni fa è uno di quelli che non lo spogliatoio, diciamo... Però adesso cosa dovrebbe fare? Non capisco il ruolo, non capisco il senso. Vabbè, comunque, strachezzi loro, ok? Però una cosa... Perché ho visto tanti miei amici interisti che hanno fatto i complimenti alla Sud su Facebook. e anch'io. Perché siamo in un mondo che negli ultimi quattro anni non si è capito un cazzo a partire dalla pandemia. Guarda dove minchia siamo arrivati. C'è un odio, c'è uno schifo che fa schifo e ci si mette il carico da 90. Quindi... Questo è quello che penso. Poi, poi... Salisburgo-Inter. Salisburgo-Inter. Eh... Abbiamo visto che questi qua hanno dei giocatori giovani, niente male. Il ragazzo della Via Gluck, ve lo ricordo ancora, due settimane fa, che non solo ci ha purgato, ma è forte, forte. Rocco Simic, il figlio di Dario Simic, di Darione Simic. Simic, ragazzi, aveva una moglie... Cioè, ce l'avrà ancora. Ma quando... Io ero alla Pinettina, sono andato un paio di volte anche in quei periodi, e la moglie di Simic era qualcosa di pazzesco. Era bellissima era. Non era ai livelli della moglie di Figo, perché secondo me era proprio la più bella, ma la moglie di Simic era qualcosa di pazzesco. L'accompagnava lei col BMW, perché poi rimanevano lì, no, in ritiro i giocatori, e se ne tornava bella bella, biondissima, con gli occhi. Madonna mia, è veramente una coscienza pazzesca. Quindi, diversi giocatori bravi che corrono, che ci hanno messo in crisi nell'amichevole estiva, vabbè, ma quella non fa testo, però avevamo avuto un assaggio che ci ha messo un po' in crisi qua da noi in casa e non è stato facile comunque vincerla e quindi lì, insomma, saranno col dente avvelenato e dobbiamo fare la miglior partita, con la miglior formazione titolare per portare a casa questa qualificazione in anticipo, perché poi se vinci, poi sì, ti giocheresti il primo posto, ma te lo puoi giocare anche all'ultima giornata, insomma, perché poi avresti quell'Inter ben fica proprio in mezzo a Juventus-Inter e a Napoli-Inter. Quindi, a proposito di Juventus, a proposito di Juventus, sta girando un video, sta girando. Qui nessuno dice un cazzo, perché io col Sassuolo ho perso. Un rigore è uguale, identico, ok? L'arbitro non l'aveva dato, il VAR l'ha richiamato e l'ha dato, ok? Perché ne stanno succedendo tante di cose contro l'Inter e io dall'inizio dell'anno che vi dico segnatele tutte, anche se si vince, segnatele, tutte le dovete segnare, perché ne sono successi una cifra, stessa cosa è successa a Fiorentina-Juve. Io non l'ho vista la partita, ma sta girando un video. Strattonato uguale, lì niente, un cazzo di niente lì, quindi, occhio ragazzi, perché, vabbè, avete visto le mie reaction, quante glielo hanno dette a Sozza, arbitraggio scandaloso, ok? hanno giocato non su, che è un 3-5-2 speculare, giocano uomo a uomo, no, giocano sull'uomo, che è diverso, hanno giocato a menare, e dovranno essere due espulsi, il gol irregolare, insomma, ma si è vinto, e quindi le cose passano in sordina, il cazzo, il cazzo, stesso identico fallo, uguale identico, solo che a noi ci hanno dato il rigore contro, abbiamo perso con Sassuolo, tra l'altro il Sassuolo che continua a perdere, va a fare un culo, quindi questa è un'altra cosa, per quanto riguarda la formazione, ci sarà Matteone, Forforone e Darmian, che prenderà ovviamente il posto di, di Benji Pavard, che tornerà tra un paio di mesi circa, e non so se giocherà il Briscola, perché è vero che si è riposato, però Cerbone sta facendo tanto bene, quindi sì, dovrebbe giocare il Briscola, e De Vrij in mezzo, credo io, però poi vediamo il mister, Carlos Augusto si pensava a sinistra, Denzel Dumfries a destra, centrocampo credo quello titolare, forse il dubbio è solo Frattesi, e la coppia d'attacco potrebbe essere di partenza, Sanchez, che aveva sbloccato comunque la partita, e Lauti il Toro, che ha fatto un euro gollasso, un euro gollasso, quindi, questa dovrebbe essere l'ipotetica formazione ragazzi, vediamo, vediamo, vediamo il mister domani come la schiera, ma ripeto, lì ci vuole, ci vuole un inter, cazzuta e cinica, cioè le occasioni che ti arrivano, le devi, le devi buttare dentro, poi, po' po' po', altra cosa, ah no, Zilliacus, Zilliacus che incalza, Zilliacus che continua, ha detto, io sono pronto anche a fare il socio di minoranza, e abbiamo due miliardi e mezzo, e adesso ci sarà l'offerta, ma gli hanno detto, ma, no no, io faccio sul serio, perché giustamente la gente gli dice, ma scusi, ma guarda che solitamente non funzionano così le trattative, no ma io sono un uomo social, insomma, vedremo tutta sta tarantella della proprietà, perché anche qui se ne hanno pieni i coglioni, ma strapieni i coglioni, ok? Veramente, non se ne esce più da sta cosa della proprietà, finalmente tra qualche mese scopriremo che cazzo succederà, quindi, questo incalza, questo continua, e vedremo se stasettimana o la prossima ci sarà questa offerta, poi è venuto fuori il Corriere dello Sport che dice, eh ma, a Zang non è che piace, ma dai, ma dai, ai cinesi non piace, a Zang non piace tanto, ma grazie al cazzo, in sei anni, in sette, no, sei anni, cinque anni di presidenza, però mettiamoci anche quelli precedenti, l'abbiamo sentito parlare sei volte, Zang? Questo non è, questo non è un, non c'entra un cazzo con l'Inter e parla di Inter, io lo sento da prima della finale di Champions, sono quattro o cinque mesi almeno, quindi, vedremo, staremo a vedere, però ripeto, mi sembra tanto un Barla Fuse, mi sembra, perché poi parla di Mbappé, no, non è un sogno, a me queste cose qui, insomma, si criticava Zang, che si diceva, ah, ha detto, che schiacceremo tutti, e torneremo, è mancato un cazzo di pelo così, che vincevamo la Champions League, porca puttana, in cinque anni, eh, ci è mancato un pelo così, schiacceremo tutti, e ritorneremo lì, e comunque, dal cinquantacinquesimo posto, siamo settimi e ottavi, in UEFA, quindi, c'è chi ha fatto i fatti, c'è chi parla, dall'altra parte, con sta capigliatura, un po' alla Trump, vedremo, vedremo ragazzi, quindi, basta, questo è il mio pensiero, ci aggiorniamo domani, per il giorno del football, e, boh, magari, magari più tardi, una live se riesco, vediamo dai, condivisione dei video, iscrizione al canale, sempre forza inter, attivate la campanella, ciao!